Buongiorno a tutti, benvenuti cari telespettatori di Fano TV, sul canale 17 c'è l'informazione alle 7.30 del mattino con la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali che daremo tra un istante e sul resto del Carlino e Corriere Adriatico le edizioni di Pesaro Urbino. Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi ricordiamo una beata, una beata dei nostri giorni perché la beata Pierina Morosini è beata perché ha un po' una storia simile a quella di Santa Maria Goretti, intanto diciamo che è nata in provincia di Bergamo nel 1931. Nel 1957, mentre tornava dal lavoro, venne aggredita da un giovane che cercò di violentarla. Pierina prima cercò di farlo ragionare, poi fuggì. Il giovane però la inseguì e la colpì con un sasso, morì due giorni dopo senza riprendere conoscenza. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggio, in particolare degli aderenti all'azione cattolica. E va detto che Pierina Morosini era devota a Santa Maria Goretti, tant'è che andò anche a Roma proprio in occasione della beatificazione di Maria Goretti. Il sole è sorto alle 6.40, tramonterà alle 19.41. Vediamo subito il tempo, oggi cambia il tempo, attenzione. Questo è il sito ed il portale di geometeo.it, intanto in alto vedete la situazione attuale del satellite con la nuvolosità, con le correnti un po' più fresche ed umide che determineranno nel pomeriggio di oggi e anche nella giornata di domani una moderata variabilità. Diciamo ecco, più che altro oggi, domani il tempo sarà buono, però insomma ecco, oggi il tempo sarà incerto con, vedete, la pioggia che arriverà anche sulla costa, soprattutto nella mattinata, intorno alle 11, mezzogiorno, insomma, poi il pomeriggio via via la situazione migliorerà. Questa è la giornata di oggi e questa invece è la giornata nella regione Marche di domani, venerdì 7 aprile. Lo vedete dalla grafica e poi questa è sabato, sabato 8 aprile, con il cielo che comunque resterà più o meno sereno, tranne qualche nuvolosità variabile qua e là. Allora, andiamo adesso subito sui giornali. Le prime pagine, ce ne sono tante oggi da leggere. Allora, cominciamo dal resto del carino. Questa è la pagina di Pesaro, vedete, l'apertura è per i ride, i ride dei ladri, senza fine. L'altra notte è toccato ai negozi di via Rossi. C'era assegnazione, ma c'era assegnazione da parte di tutti, non solo dei commercianti, anche di quelli che abitano, insomma, di tutti quanti, cioè siamo tutti potenzialmente, ahimè, vittime di questi ladri che non danno tregua e non danno pace. Vaccini invece sopra, la controffensiva dell'Asur, lo vedremo tra poco, c'è un piano per tornare in sicurezza perché Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino è maglia nera per quanto riguarda i vaccini e su questo si sta dibattendo ormai da diverso tempo e siamo alla vigilia di una votazione importante in regione. Più opzioni gratuite intanto per i vaccini, però nasce il comitato anti-obbligatorietà. Infatti per andare all'asilo, per iscrivere i bambini all'asilo, sapete, adesso, tra poco, se passerà tutto quanto, insomma, bisognerà essere vaccinati. La dodicenne deve tornare invece con la madre, famiglia marocchina, comune di Sant'Angelo in Vado, contro la decisione della procura nelle pagine interne. Allora, la pagina di Fano del resto del carino di oggi, l'ex campo da tennis diventerà un parcheggio, quanti epici match, quanti incontri, quante partite di tennis, intere generazioni cresciute al centrale. Dunque cala il sipario sul campo centrale Opariolino, lo storico campo da tennis in terra rossa, dietro il caffè centrale, in disuso da quasi 20 anni, scompare per fare spazio a posti auto e a un giardinetto. La proprietà, che è l'Istituto per il Sostentamento per il Clero, da qualche giorno ha dato il via ai lavori di sistemazione dell'area, ma i tennisti che negli anni 60-70 si sono dati battaglia su quel campo lo ricordano, lo ricordano con affetto. Era abbandonato questo impianto da 20 anni, Sergio Schiaroli lo ha raccontato in un libro. Queste sono le foto d'epoca, mentre vedete le ruspe in azione in questi giorni. Il pallone invece, siamo nel quartiere della Trave, a Fano, il pallone dietro la palestra diventerà una struttura fissa. Polemizzano i 5 Stelle, la decisione, dicono, non è stata condivisa, l'assessore allo sport del Bianco dice che in questa fase sarebbe prematuro. Insomma, sta di fatto che, come vedete dalle fotografie, il prima e il dopo, vedete questo pallone un po' impattante, il paesaggio coperto di fatto dalla struttura, alcuni residenti del quartiere Poderino lamentano infatti questo impatto della struttura un po' troppo grande, però assicurano che sarà un po' meno impattante. La Rocca Manatestiana invece, la Rocca Manatestiana di Fano, questo monumento straordinario, è adesso pronto, sistemato, ristrutturato. Manca solo un inquilino che sarà colui che deciderà di prenderne la gestione. Ci sono in questo articolo del resto del carlino i requisiti che servono per appunto poter gestire la Rocca che adesso, essendo stata ristrutturata, potrà ospitare qualcosa come mille persone, novecento, novecento spettatori. Chiaramente per portare dentro novecento persone in questa bella Rocca bisognerà anche organizzare degli eventi importanti e uno ce n'è a luglio, è il Fano Jazz by the Sea che torna dunque all'interno della Rocca Manatestiana. Qui vedete Adriano Pedini che è il direttore artistico della Rassegna, che mostra la locandina di quest'anno incentrata sul tema dell'ecologia. E c'è un cartellone davvero stellare, così scrive il carlino questa mattina, quindi tanti artisti che si esibiranno e faranno sentire la loro musica all'interno di questa nuova struttura. Per quanto riguarda invece la pagina 15 dell'Alessio del Carlino, sulla sanità Massimo Seri, il sindaco di Fano, presenta il conto a Luca Ceriscioli, il presidente della Regione Marche, ma scoppia la contesa degli anziani, anche Solarenzi in campo vuole la sua RSA. La maggioranza ha dato il via libera all'accordo con il fondo Cives. Sopra invece Maxi confisca a Angelo Balducci, a destra vedete il casolare confiscato, l'ex provveditore delle opere pubbliche condannato per l'arricchimento illecito e c'è anche questa casa colonica di famiglia a San Giorgio il cui valore non supera i 100 mila euro. Ancora dal resto del Carlino, la politica con i candidati alle prossime amministrative. Sapete ci sono due paesi, Terre Roveresche e Colli al Metauro, che si presenteranno alle amministrative. Siamo all'11 di giugno. E allora volevo farvi vedere, eccola qua, la pagina con queste due fotografie. La prima in alto, a destra, si tratta di Deborah De Angelis, 36 anni, saltarese di origine residente a Tavernelle. Nel 2014 si candidò nella lista opposta a Claudio Uguccioni, l'ex sindaco di Saltara. Ebbene Deborah De Angelis adesso sfiderà Stefano Guzzi, quindi per diventare sindaco di Colli al Metauro, coordinatrice di professione di una casa di riposo di Fano, è il nome scelto dal centro-sinistra. E dunque vedremo che cosa proporrà nei prossimi giorni. Mentre Terre Roveresche, Sebastianelli Flash, questo è il titolo, già pronta la squadra, il candidato sindaco presenta i suoi, quelli della lista, e parla di esperienze e gioventù. E qui nella fotografia vedete tutti quelli che appunto compongono la lista di questo nuovo, di questa nuova, dei candidati che appunto si sfideranno a Terre Roveresche. Allora, andiamo adesso sulla pagina di Urbino. Processione delle Palme, questa è un po' così, è un po' una notizia che indica un po' i segni dei tempi, secondo me. Comunque, la notizia è questa, che a Urbino, la processione delle Palme purtroppo non si potrà svolgere come tutti gli anni nelle consuete vie di Urbino. Perché? Perché purtroppo il sindaco e l'amministrazione comunale di Urbino hanno autorizzato lo svolgimento di una gara podistica nel centro storico. Quindi non hanno potuto dare l'autorizzazione alla Curia per lo svolgimento della processione delle Palme. Naturalmente c'è stata meraviglia, imbarazzo anche negli ambienti della Curia Urbinate e questa la dice lunga, insomma, di quanti cattolici ormai siano rimasti in politica. Cioè ormai non c'è più nessuno, quei pochi ci sono, a volte sono anche un po' sbadati e quindi che succede? Succede questo, è segno dei tempi, non c'è nient'altro da aggiungere. Purtroppo, io spero, mi auguro che il buonsenso adesso da una parte dall'altra si riesca a trovare una soluzione, però di fatto la processione della Domenica delle Palme a Urbino non si farà o perlomeno si farà in altri modi probabilmente, ma non come è sempre stata fatta da anni e anni e anni perché c'è una gara podistica e quindi adesso questa è la notizia. Allora, intanto questo è il giornale, io spero di poter andare avanti, noi stiamo con questo benedetto touchscreen, stiamo cercando in questi giorni il proprietario di questo benedetto touchscreen che però è latitante e non riusciamo a contattarlo, quindi siamo costretti tutte le volte a pregare Sant'Antonio e tutti i santi perché questo touchscreen funzioni. Io nel frattempo sono tentato di ritornare a quella benedetta carta, il giornale di carta che era tanto bella e profumata. qui, ecco, questo è il... che devo fare? Non so che devo fare. Vabbè, questo non funziona. Io porto... no, mi fermo qui, più o meno le notizie, ecco, mi dispiace per il Corriere Adriatico, quindi ci fermiamo qua, dai, più o meno le notizie sul Corriere Adriatico, chiaramente ce ne sono altre, ma insomma sono più o meno queste, l'inaugurazione di una piazza a Pesaro, un capriolo che è stato salvato dai vigili del fuoco, che non è stato salvato dai vigili del fuoco perché poi non si è più trovato, è finito nel Canada Albani però poi non si è più trovato, più o meno le notizie più importanti ve le abbiamo date. Per la segna stampa è tutto, grazie e ci vediamo stasera alle 20.30 con il Telegiornale. Grazie.